E buongiorno, stamattina vi voglio presentare un caso particolare di una giovane donna che ha trattato senza chirurgia l'addome, l'interno cosce e la regione posteriori del torace. Come ben vedete non ci sono cicatrici e le regioni trattate sono state trattate con la baser lipo che è la nuova frontiera della riposizione e con il Renuion Geplasma che è un nuovo strumento che ci permette di ottenere un tightening della pelle dopo aver svuotato il grasso. Chiamatemi, fissate un consulto con me e vi darò risposta al vostro caso. Ciao da Giuseppe Scalera